Il Museo Diffuso della Resistenza di Torino ha ospitato la proiezione di La Resistenza Italiana in Montenegro, curata dallo storico Eric Gobetti. Nel film, la storia dei partigiani della divisione Garibaldi, eroi semplici che hanno combattuto il freddo, la fame e una devastante epidemia di tifo, pagando con tremende sofferenze una scelta di campo. Il film è stato prodotto dall'Istoreto, grazie al contributo del Comitato Resistenza e Costituzione.